buonasera dunque è arrivato questo proscioglimento nell'inchiesta del plus valenze dalla richiesta di 800 mila euro di multa l'inibizione di 12 mesi per agnelli di otto per med poi sei cherubini e compagnia bella sia arrivati al proscioglimento sia per la juventus che per il napoli ma ragazzi io voglio dire nel momento in cui una procura federale si fonda sulle valutazioni di transfer market e colui che fa le valutazioni dei giocatori su transfer market dice non c'è nessun algoritmo non mi occupo esattamente di questo faccio l'assistente sociale e collaboro con transfer market facendo questi calcoli per puro diletto e allora voi capite che si smonta tutto molto facilmente al di là del fatto che appunto non esiste un listino prezzi per i giocatori i prezzi li fa il mercato i prezzi li fanno le contrattazioni eccetera ma nel momento in cui un organo ufficiale si appella a una roba fittizia puramente passionale non professionale di puro divertimento e di hobby è come se uno fondasse le proprie accuse sui tabellini della gazzetta dello sport no però è successo no non lo sto inventando io non lo sto inventando io anni fa la procura federale andava a vedere i tabellini della gazzetta dello sport per vedere gli ammoniti se poi la settimana successiva erano diffidati andavano a giocare contro questa squadra tra l'altra però lì andava bene gli andava bene lì andavano bene ma anche perché per carità lì è un grosso conto però insomma no cioè uno pensa ma sai si fondano su cose no si sono fondati anche su quelle robe lì detto questo capitolo chiuso sul nascere aspettiamo le motivazioni naturalmente di questo pronunciamento però insomma nessuno scandalo nei commenti successivi cioè meglio no cioè però non è che si è gridato lo scandalo ecco la solita juve che la fa franca forse perché non c'era solo a juve e allora diciamo che il mal comune o il pericolo scampato comune ha fatto sì che tutto scemasse e quindi anche a livello di social di terreni sui quali normalmente si edificano certe battaglie praticamente quasi nulla quasi nulla ma meglio così perché abbiamo già tante polemiche abbiamo già tante nel nostro calcio e e quindi a questo punto tanto meglio finirla qua uno di voi mi ha fatto notare ma l'ho percepito anche adesso che me lo fa notare al momento anch'io l'ho percepita questa cosa qua nella conferenza stampa di allegri quando gli si chiede di commentare il rinnovo del contratto di quadrado o la liquida così proprio con una battuta non battuta nel senso di far ridere una dichiarazione secca praticamente dice beh è scattato il rinnovo automatico come dire beh abbiamo dovuto rinnovarlo per forza ma non era proprio così non era proprio così perché la juventus ha cercato di modificare la situazione di quadrado no non le andava di tirare fuori i 5 milioni netti subito che poi sono sette e mezzo otto lordi evidentemente facendo due conti anche perché lì adesso si va a vedere un po tutto no per far quadrare i bilanci le conveniva spalmare anche solo anche aumentare la cifra ma spalmarla in due anni e quadrado evidentemente non ha accettato perché evidentemente ha altre mire mi si chiede ma perché spalmare in due anni era più vantaggioso per quadrado voglio dire apparentemente è molto semplice ti garantisci altri due anni di contratto se lui ha rifiutato due anni di contratto è perché evidentemente ha degli accordi per andare a giocare da un'altra parte alla fine del 2023 ma la juve e la risposta di allegri me lo fa abbastanza intuire adesso che ci penso e grazie alla segnalazione di uno di voi la juve ci è rimasta un po lì cioè nel senso non forse non se l'aspettava no non se l'aspettava però c'è una clausola da rispettare quadrado prende 5 milioni netti ma credo a quadrado non verrà proposto nessun rinnovo ulteriore alla fine di questa stagione perché poi dopo è così funziona funziona così funziona di rancore di essere permalosi di volersi vendicare no è così funziona così una società difficilmente si fa mettere i piedi in testa da un singolo giocatore qui non poteva evitare ovviamente di far scattare una clausola patuita sottoscritta e tutto però da qui a dire che alla fine del 2023 avrà proposto a quadrado un rinnovo ulteriore quello no io lo escluderei categoricamente ah tra l'altro avete visto che comunque sono qui ancora a parlare con voi anche se effettivamente stamattina ero un po' rabbuiato per questa roba qua un po' rabbuiato per questa roba qua che formazione scenderà in campo domani contro il bologna no perché se leggo da qualche parte che allegri vorrebbe preservare un centrocampista uno tra zaccaria e rabbio che sono gli unici due di ruolo disponibili devo pensare che una soluzione potrebbe essere danilo a centrocampo con decidio a destra e alexandro a sinistra del giocherà ci sarà un ballottaggio buon cicchiellini e quindi a questo punto potrebbe esserci un danilo rabbio o un danilo zaccaria e poi attenzione perché è disponibile bernardeschi i tre dietro a vlaovic 70 mila tanto potrebbero essere quadrado appunto dibala e morata con vlaovic davanti io parlo mentre l'inter ha già battuto lo spezia vi sto parlando mentre il milan sta vincendo 1 a 0 contro il genua ma non perché voglia per forza buttare gli occhi sulla classifica però devo anche dire che se il milan dovesse portare a termine questo compito l'inter l'ho già portato a termine la juve a questo punto non ha più nulla da perdere cioè nel senso avrebbe provato comunque a vincere proverebbe comunque a vincere contro il il bologna però a sto punto non è più nulla da perdere diciamo che non dico che può andare in campo rilassata regolo mai mai e contro il bologna mai il bologna con mi hai lo vince a casa vi ho già spiegato no le motivazioni con mi hai lo vicino ospedale ecco però non c'è nulla da perdere a sto punto nulla da perdere e io chiudo qua chiudo qua e vi dico di iscrivervi al canale vi do appuntamento domani nell'intervallo della partita e poi per il commento finale su intervallo della partita su facebook lo sapete la diretta e poi per il commento finale qui sul mio canale youtube iscrivetevi e mi raccomando sempre più numerosi ma del resto che ve lo dico fa siete già in tanti però possiamo essere ancora di più ciao ragazzi a domani ciao ciao ciao